Tre gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Caltanissetta nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, così come si evince anche dai canali social della Questura Nissena. E' ancora denunciata dall'autorità giudiziaria 9 persone, eseguite 10 perquisizioni personali e sequestrata a Ashish. Ed in particolare un 37enne è stato arrestato in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, dovendo scontare due mesi di pena residua per danneggiamento. Due persone che si trovavano ai domiciliari sono state condotte in carcere per l'aggravamento della misura cautelare cui erano sottoposti. Due persone denunciate per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere, un quarantenne sorvegliato speciale della pubblica sicurezza per violazione delle prescrizioni. Cinque persone sono state denunciate per furto, cioè un 37enne e un 17enne per aver asportato delle bottiglie di liquore da un supermercato. Due per furto in abitazione e un 47enne per tentato furto. Un ventenne infine sarebbe stato trovato in possesso di Ashish.